Omicidio colposo plurimo, questa l'ipotesi d'accusa a carico della quarantenne di origine rumena che era la guida del pulmino finito fuori strada ieri sera poco dopo le 20 lungo la provinciale 28 della Fratta nel comune di Cortona. Per causa in corso di accertamento la donna ha perduto il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero provocando la morte di due uomini e una donna. Le vittime, tutti i disabili in cura presso una struttura locale, sono Ivan Osmeri, 45 anni di Passignano sul Trasimeno, Selene Foschi, 43 anni di Livorno e Luigi Romano, 45 anni originario di Napoli. Al bilancio vanno aggiunti due codici rossi trasferiti alle scotte di Siena e tre codici gialli portati all'ospedale San Donato di Arezzo. Stando ad una prima ricostruzione i disabili e l'accompagnatrice tornavano da una festa nel Senese. Un gruppo è stato fatto scendere in una prima struttura e il secondo era diretto verso la seconda quando, forse a causa del violento temporale in corso nella zona, la quarantenne ha perduto il controllo del mezzo finendo fuoristrada. La pioggia ha reso difficili gli interventi dei soccorritori, vigili del fuoco 118 e carabinieri, a cui spetta il compito di far chiaro sulla dinamica del tragico incidente, uno dei più gravi nella storia della circolazione stradale nell'Aretino.